Nuovo incidente sulla A1, nuovo incidente nel tratto a retino, come antipasto di uno dei primi weekend di vero e proprio esodo per le vacanze estive di questo 2024. Stamane intorno alle ore 7.30 si è avuto già un primo sinistro in direzione sud sull'autostrada del Sole. Il conducente di un mezzo pesante, per motivi ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, avrebbe perso il controllo del proprio veicolo. Poco dopo l'accaduto, tra i caselli di Arezzo e Monte San Savino, si sono creati perciò oltre 5 km di coda. L'evento coincide esattamente con l'attivazione di un piano operativo ideato dal gruppo Maxi Emergenze della ASA Toscana Sud-Est, volto a far fronte ad emergenze stradali, generantesi nei mezzi fermi, nelle code che potrebbero formarsi a seguito di incidenti appunto. Una riproposizione del piano già adottato nel 2019 per una forte nevicata e che è stato di fatto ripresentato per le emergenze che potrebbero insorgere nelle giornate di esodo estivo, di cui domani si avrà il primo giorno da bollino nero, secondo il Ministero dell'Interno. In caso di incidenti, dunque, il piano operativo in questione prevedrà di convogliare le ambulanze e i caselli autostradali alle uscite dei tratti interessati, sulla A1 nel tratto che vada incisa a Foiano della Chiana e alle uscite dalla Perugia a Bettolle nel tratto della provincia di Arezzo. Questi mezzi di soccorso rappresenteranno così dei punti di riferimento, specialmente in salvaguardia delle categorie di persone fragili, maggiormente messe alla prova dalle condizioni climatiche estive che potrebbero su di loro accentuare i propri effetti negativi a seguito di soste prolungate sotto il sole d'agosto.